Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video e nuovo volo con il Mavic Air. Oggi destinazione Ponte di San Michele a Paderno d'Ada, un ponte veramente curioso perché è fatto completamente di metallo, è stato costruito nell'800, è un ponte veramente diciamo particolare per l'epoca e tuttora è un ponte validissimo perché riesce a trasportare sia le auto che il treno, sì perché è un ponte sia ferroviario che stradale, sopra passano le auto, sotto passano i treni, è un ponte stato chiamato anche ponte dei suicidi perché da quando è stato creato circa 50 persone l'hanno usato per suicidarsi, quindi è un ponte abbastanza particolare in tutti i sensi. Pensate che questo ponte nel 2017 è stato candidato per entrare a far parte del patrimonio dell'UNESCO, quindi ragazzi è un ponte di tutto rispetto. Adesso non perdiamo altro tempo, destinazione Ponte San Michele. 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 5 Posto San Michele. Ponte San Michele. Ponte San Michele. Ponte San Michele. Grazie a tutti.